Se l'Abruzzo fino a qualche giorno fa era considerata la regione a più alta incidenza sul fronte dell'influenza stagionale, il dottor Parruti, direttore dell'Unità Operativa Complessa Malattie Infettive dell'Ospedale di Pescara, parla di casi che stanno scendendo. Il picco, dice Parruti in Abruzzo, è stato già raggiunto precocemente in gennaio, vuoi perché abbiamo tolto le mascherine e i dispositivi di protezione, vuoi perché c'erano più persone suscettibili, case in calo anche per la massiccia campagna anti-influenzale, ma non è escluso, prosegue che nelle prossime settimane arrivi il ceppo B, anche in questo caso con un picco precoce. Quanto al Covid? Per il momento non abbiamo nessuna evidenza in Abruzzo delle nuove varianti, la Kraken in particolare, nonostante che ci siano stati questi 50 circa isolamenti a livello nazionale. Per il momento dobbiamo aspettarci un andamento ancora favorevole nelle prossime settimane. Ci sono due facce però della medaglia, c'è un calo dei casi, però per quanto riguarda i decessi purtroppo ci sono ancora, e le reinfezioni? Allora, guardi, le reinfezioni ci saranno sempre. Tutti quelli che hanno avuto l'influenza e che si sono vaccinati, l'anno dopo hanno di nuovo l'influenza. I vaccini non ci hanno mai promesso per i virus RNA una possibilità di non reinfettarci, ma soltanto un forte, forte per fortuna contenimento delle conseguenze in termini di gravità della malattia, in termini di complicanza ed in termini di mortalità. Naturalmente, per quanto ridotta, la circolazione del Covid è ancora tutto sommato sostenuta. E quindi il paziente fragile, per queste reinfezioni che possono colpire tutti, è sempre a rischio di poter sviluppare complicanze. Perché i vaccini riescono a proteggere il grosso della popolazione, ma in coloro in cui l'attecchimento vaccinale è ridotto da problematiche del sistema immunitario, l'esposizione alle conseguenze importanti della infezione virale si mantiene anche nelle reinfezioni e nella circolazione ulteriore. Quindi quello che noi stiamo raccomandando e che stiamo anche ottenendo nella nostra regione molto bene, è che per tutte le persone a rischio ci sia un pronto e immediato riferimento alle strutture che oramai sono in sede in tutte le province per poter somministrare tempestivamente gli antivirali. Per quanto riguarda le nuove varianti, i vaccini sono in grado di proteggerci, quelli attuali? Sì, abbiamo questa buona notizia. Le prime valutazioni che vengono dai centri di ricerca finalizzati a questo scopo ci stanno mostrando che le nuove aggregazioni vaccinali con le sequenze Omicron incluse ci garantiscono un'eccellente copertura vaccinale. Quindi non bisogna assolutamente abbassare la guardia. Il tasso di quarte dosi è ancora piuttosto basso e posso riaffermare ancora una volta che tutti coloro che non hanno avuto eventi avversi dalle prime dosi non devono temere assolutamente nulla di nuovo dalla quarta dose. Sono circolate nella nostra regione notizie di basso profilo e informativo al riguardo. In questi giorni abbiamo invece pubblicato uno studio molto importante condotto dal gruppo epidemiologico del professor Manzoli con i dati della nostra regione che conferma che le reazioni avverse vaccinali gravi sono assolutamente minime e in nessuna relazione con la quarta dose.